Mi chiamo Roberta Russo, sono di Milano, ho quasi 25 anni, faccio il 13 agosto. Sono a Fermentera in vacanza e a trovare delle amiche che lavorano qua e cosa cerco da Fermentera? Mi avevano descritto l'isola come il paradiso, quindi siamo venuti a vedere se davvero era il paradiso. E effettivamente, beh, sono andata ad agosto, quindi sono leone, sono leone, sono coraggiosa, loca, pazza, lo bello, giustamente siamo in Spagna, quindi loca e, non lo so, la regina del selfie. Facebook e Instagram per forza, quindi prima su Instagram e poi tutto su Facebook, giustamente, presentatrice. Perché ho carisma, quindi un po' di imbarazzo, ma è normale. Non sono bravissima alla tecnologia, anzi, però vabbè, da quando c'è lo smartphone è ovvio, cioè non si può non fare il selfie, quindi, vabbè, la regina è del selfie, quindi ne faccio abbastanza. Strategie usate, vabbè, in bagno non molto, magari in camera, davanti allo specchio, al mare, col mio cane, che amo, con mia mamma ogni tanto, con le mie amiche. Quando ho scatto di selfie, preferisco che ci sia al sole, ovviamente, perché... Sì, perché almeno con la luce viene, cioè con una certa luce viene abbastanza bene il selfie e poi perché, vabbè, ovvio, deve essere bella anche la figura, però... Sì, poi la posizione dipende. Sole, mare, fermentera... Beh... 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 Sexy, Instagram, Insta cool, Insta fashion... Non ce l'ho mai provato, però, eh, questo qua mi manca.